Un'associazione in evoluzione, un'associazione che sarà sempre più legata al digitale, che sarà sempre più legata a dare dei servizi diversi anno dopo anno a delle aziende che dovranno confrontarsi, fare un commercio fisico, un commercio online, dunque è sempre più collegato a una concorrenzialità che non sarà soltanto locale ma mondiale. Dall'altra parte è un'associazione che continuerà, spero, a investire sul turismo perché anche nel 2030, anzi ancora più di adesso, il settore turistico sarà la vera sfida, il grande obiettivo da incrementare per mantenere il nostro territorio e la nostra città economicamente ricca e soddisfatta.